Può voler dire tante cose, principalmente il produttore è colui che trova o scova l'idea iniziale da cui puoi costruire un film. A volte il produttore è colui che riceve un'idea portata da uno sceneggiatore o che leggendo un libro contatta quello sceneggiatore per fargli scrivere esattamente quell'idea da cui è nata. Scusi se la interrompo, perché generalmente nella credenza normale il produttore è quello che raccata i soldi. Però in realtà c'è questo lavoro dietro fondamentalmente. Sì, ci sono tante categorie di produttori, è vero che ci sono anche dei produttori che sono specializzati nel raccogliere i soldi mancanti o a raccoglierli tutti, questo è vero. Però è anche colui invece a 360 gradi il vero messaggio del produttore di partire da zero trovando l'idea e mettendo tutti i pezzi insieme, oltre a quelli economici. Io volevo intanto poi partire anche, visto che qua siamo all'International Fiction Festival, dalla differenza anche di produrre un film e produrre una serie tv. Anche perché abbiamo parlato del fatto che ormai le serie stanno diventando sempre un prodotto più di qualità. Quindi diventa quasi addirittura come produrre più di un film in alcuni casi, perché le puntate sono girate in maniera impeccabile con una qualità altissima. Beh, in assoluto le serie televisive o la nascita delle piattaforme ha permesso alle serie di diventare sempre più, diciamo, di alzare il livello. Proprio perché tutti gli sceneggiatori cinematografici poi si sono prestati a diventare anche scrittori di serie televisive o registi cinematografici. E quindi c'è stato un bellissimo connubio. Oggi le serie hanno anche elevato tantissimo l'aspetto della narrativa. Quindi è vero che grazie alle serie si è saliti un po' di grado. Quindi le serie sono... io adesso abbiamo girato, appena finito, le riprese di Vita da Carlo con Verdone. Stiamo vedendo tra l'altro le immagini in questo momento e quindi tra l'altro ci rimandano anche un po' alla nostra Liguria. Assolutamente sì. Infatti la Liguria è stata parte insieme a noi delle location, alcune delle location della serie. E è come girare tre film, quindi l'equivalente di tre film in uno. Poi in verità attraverso dieci puntate si possono esplodere ancora meglio quelli che sono gli aspetti dei personaggi e quindi della storia stessa. Qual è l'importanza di appuntamenti come questo, come l'International Fiction Festival, anche per quello che riguarda la nostra regione, cui lei in qualche modo è legato, noi facciamo un po' di campanilismo. No, no, ma io sono legato a tutta l'Italia perché sono un grande nazionalista, credo tantissimo in questo paese. Quindi Portofino Days, come tutte le regioni che poi si impegnano nell'aiutare, nel promuovere il nostro mondo, quindi il mondo della scenografia, che quindi pubblicizza anche poi in maniera veramente globale questo bellissimo territorio, è fondamentale proprio per attrarre sempre più produzioni, perché poi la Liguria in questo caso, in maniera molto attiva, vuole attrarre sempre più produzioni. Quindi la formazione della regione stessa per quello che riguarda il supporto, gli incentivi, questo non fa che attrarre anche cinema internazionale o serie internazionali, ne abbiamo viste varie, e questo non fa altro che pubblicizzare il nostro paese, quindi queste manifestazioni sono molto molto importanti. Vita da Carlo, appunto questa è la serie che dicevamo prima, è stata girata anche nella nostra Liguria, come mai? Eh beh, perché diciamo avevamo nella sceneggiatura l'idea di girare nella bella Sanremo, e quindi il comune, la città e appunto sindaco, assessori al turismo e la Film Commission si è messa a disposizione, e li ringrazio personalmente perché ci hanno permesso appunto di raccontare molto bene una parte della sceneggiatura. Il lavoro con Carlo Verdone è sempre, immagino, appagante, appassionante lavorare con un artista come lui, che tra l'altro arriva anche a mettersi un po' in discussione nella serie stessa. Dopo una lunga carriera lui vuole fare, diciamo, l'attore più serio, invece gli continuano a proporre magari anche ruoli comici, insomma è anche un'esperienza di metacinema. Sì, assolutamente, infatti noi quando abbiamo abbracciato quest'idea insieme poi a Carlo, perché poi Carlo è l'autore, il regista, insieme poi a Valerio Vestoso che è anche l'altro regista della serie, e anche sceneggiatore, a un certo punto abbiamo switchato, quindi siamo passati dal mondo cinematografico al mondo delle serie. E proprio nel raccontare la sua vita abbiamo pensato che potesse essere il giusto linguaggio per renderlo ancora più pop, contemporaneo, per mostrare qualsiasi lato delle sue caratteristiche, perché poi nelle sceneggiature lui si diverte anche a raccontare tantissimi aneddoti, perché lui ha un'aneddotica pazzesca che ci ha raccontato poi negli anni, perché ormai sono più di vent'anni che lavoriamo insieme, e quindi nella serie ci sono tante piccole chicche raccontate attraverso poi quella che è la sua vita vera, che è quella di un uomo che viene tirato da una parte e dall'altra, perché è uno veramente degli ultimi attori nazionali di quella sua generazione così famosa e così ancora la ribalta. Ricordando quello che lei ha detto all'inizio, uno dei compiti del produttore è quello di andare a scovare le idee, a trovare le idee giuste, in questo periodo, in questi anni, è più facile trovare idee per un film o per una fiction? Bella domanda, ma diciamo che oggi come oggi il cinema si sta risollevando, ci sono sicuramente alcuni film che dimostrano, come il film di Paolo Cortellesi, che qualora c'è un buon film che può creare un buon passaparola, l'italiano va nelle sale, quindi quando si riescono ad arrivare a certi incassi, poi è ovvio che è impossibile trovare più di un film del genere all'anno, ma sarebbe anche importante trovarne di più che riescano ad intrigare il pubblico a tornare in sala. Quindi in verità c'è la possibilità, dovremmo trovare forse dei film più affabili e dall'altra parte diciamo che le piattaforme hanno sicuramente offerto la possibilità a noi produttori, agli sceneggiatori, ai registi di trovare ancora più contenuti da poter raccontare, quindi questo è un bene. Io volevo anche sapere, a proposito appunto, siamo un po' campanilisti noi di Primo Canale, però anche per imparare, che cosa un produttore ricerca anche nelle location dove va a girare e quindi quali sono le caratteristiche che lo convincono poi a dire ok, scelgo questa regione piuttosto che un'altra, a prescindere poi magari da dove la sceneggiatura viene scritta, perché la nostra Liguria, appunto, adesso sì, vanta 16 serie televisive, raccontavamo dal 2019 ad oggi, girate qui, ma prima era un po' bistrattata, a volte anche alcune scene che dici ma cavolo dovrebbero essere in Liguria, ma riconosciamo noi Liguri che non sono state girate qui. Come mai? C'è qualche difficoltà? Ma io credo che per andare on location, quindi per andare in una location fuori dalla grande città e quindi di aria, con i viaggi, gli spostamenti e tanti costi che quindi comportano il girare on location, sicuramente dipendono molto anche da quanto supporto ha la propria regione, alla regione dove si va a girare, quindi anche quanta storia cinematografica si è costruita sul territorio, quindi quanti addetti ai lavori uno può assumere in loco risparmiando, diciamo di quelli che potrebbe portare da Roma o insomma da dove è la base di partenza e quindi quando le regioni hanno un'ottima fin commission, hanno già personale addestrato, hanno magari i facilities, quindi magari hanno degli studi che hanno costruito nel tempo, vedesi Torino, vedesi insomma altre, il Trentino che ha investito tanto anche e la Liguria che oggi è così attiva da avere anche un tax credit interessante, un incentivo interessante, per cui anche quelli, insomma le ragioni sono varie. Per lei che, come abbiamo detto più volte, segue un po' tutta la filiera del cinema, qual è il momento più complicato? Beh i momenti complicati diciamo sono probabilmente all'inizio, quando si comincia a trovare l'idea giusta, cioè sull'idea, poi la scrittura stessa della sceneggiatura è complessa, perché bisogna comunque, si riscrive più volte, ci si lavora parecchio, quindi diciamo è un insieme di lavoro che è certosino, perché la sceneggiatura non può avere nessun errore, o almeno deve avere meno errori possibili, perché una volta che è scritto, ciò che è scritto, che poi è diciamo la parte più importante di un film o di una serie, è la scrittura. Dopo è ovvio che le difficoltà sono tante altre, che sono magari dal casting al montaggio, alla commercializzazione, a tanti altri, ma una volta che è scritto, poi diciamo il treno parte. Non è mai capitato di dover cambiare qualcosa? Sceneggiatura, regista? Beh, diciamo nel cinema... Certo, magari anche senza fare nomi. No, certo, ma nel cinema accade spesso, sceneggiature che arrivano all'ultimo secondo, proprio mentre si sta iniziando a girare, quindi a volte non si ha un piano di lavorazione definito, perché mancano ancora delle scene, ritardi, oppure ecco, cambi di attori improvvisi, perché un attore magari ha avuto paura psicologica di non affrontare quel ruolo e quindi improvvisamente sparisce il giorno prima dell'inizio delle riprese. È capitato, è capitato. E allora cosa in quei casi lì? In quei casi lì, in emergenza, si trova un sostituto attore, se l'attore diciamo è conosciuto, aveva un ruolo abbastanza formato, è ovvio che diventa ancora più difficile, però ecco, nel nostro mestiere ci sono tante, tante, tante problematiche che possono sorgere improvviso. Il mestiere del produttore non è per tutti, ci vuole un buon fiuto, immagino, quali sono le doti che contraddistinguono anche un bravo, poi imprenditore sì da una parte, ma dall'altra anche visionario, perché non è da tutti anche decidere di investire in quella che è un'avventura che può andare bene o male, un po' una scommessa. Sì, è così. Sicuramente il fiuto commerciale è importante, il fiuto per ciò che potrebbe intrigare un certo numero di pubblico, poi il produttore deve avere anche la sensibilità artistica di sapersi confrontare con registi, sceneggiatori, quindi avere anche un know-how artistico importante. Insomma, il produttore che lavora a 360 gradi è uno che conosce tanti mestieri e che attraverso il suo mestiere è riuscito a formarsi a 360 gradi. Poi è capitato o può capitare che magari lei immagina un produttore, immagina questo qui è un gran film e poi magari quel film lì non ha successo, mentre invece produce un film che dice vabbè lo produciamo perché, e poi invece si divera un crack. Questo è l'aspetto più incredibile del nostro mestiere, purtroppo non ci sono certezze, si cerca di costruirle sempre più certe, spesso e volentieri, a volte si producono dei film che proprio sono sposati dalla bontà dell'idea, di quella che si crede essere una fantastica idea e a volte diventano dei grandi flop, purtroppo questo è il nostro mestiere. Quindi è capitato? È capitato, è capitato. Ma le faccio una domanda un po' così, hai mai prodotto un film pensando che avrebbe potuto avere un successo? Adesso faccio un film perché voglio che abbia successo. Beh di base... Cioè è chiaro tutti però voglio... Di partenza insomma la mia famiglia viene proprio da una storia di cinema commerciale, di cinema... E commerciale però di altissimo livello. Quindi dalle dramedies, alle commedie, dai film comici alla commedia, commedia romantica, dramedies e quant'altro. Però sì, può capitare, può capitare però, in merito alla sua domanda, in verità, noi partiamo sempre dall'idea di entusiasmarci su un'idea che può entusiasmare il pubblico. Ecco, il vero mestiere produttore è anche proprio vivere di questo entusiasmo che uno può portare a un grande pubblico. Ecco, a questo proposito, appunto ricollegandomi un po' anche alla vostra distoria, le commedie, no? Parlavamo anche oggi dell'importanza di ridere, ma al tempo stesso anche della difficoltà oggi di ridere. Un tempo, insomma, c'erano certi film che trascinavano subito e portavano una grandissima affluenza. Oggi è diventato un po' più scontato? Non so, la comicità trova magari qualche difficoltà in più a catturare l'attenzione del grande pubblico? No, credo che sia un genere che non è così compreso, così ben compreso, perché la commedia è un mestiere difficilissimo. Saper far ridere è difficilissimo. Saper leggere una sceneggiatura e riconoscere che quella scena che si sta leggendo fa ridere non è così semplice. Molto difficile. E anche così nella ripresa, nei registi che quindi poi devono riprendere in un certo modo quella scena per far ridere ancora di più, per assicurarsi che tutto funzioni. E io credo che negli anni, in questi ultimi anni, si sia un po' persa. E quindi è un peccato. E quindi vediamo meno commedie che possono fare la differenza. Credo che Perfetti Sconosciuti, che è una bellissima dramedi, anche il film della Cortellesi, che comunque è un film drammatico, ma ha anche degli elementi di commedia, siano quei film che negli ultimi anni hanno caratterizzato di più l'alta qualità della nostra commedia. Insomma, cambiano un po' i generi. Più in generale, come vede il cinema italiano in questo periodo? Perché veniamo dal Covid che ha creato ovviamente dei problemi in sala, insomma, se abbiamo la difficoltà degli esercenti, insomma, il pubblico forse sta leggermente adesso tornando in sala, però chiaramente manca qualcosa. Ma io trovo che il cinema italiano sia ancora un po' in difficoltà, perché escono troppi film che non trovano il proprio pubblico. basta leggere gli incassi delle centinaia di film usciti l'anno scorso e proprio non riescono a trovare diciamo come dire, un interesse, un minimo interesse. Questo è un problema. Mentre abbiamo visto all'inizio del 2024 attrarre tanto pubblico verso un cinema d'autore, però purtroppo straniero. Dico purtroppo perché allora c'è una chance, c'è curiosità di vedere addirittura un film coreano che è una storia romantica, ma allora la stessa storia raccontata da italiani perché poteva essere benissimo una storia italiana attrerebbe lo stesso? Probabilmente sì. Ma lì è un problema di sceneggiatura, di sceneggiatori, di idee? È un problema di come vengono raccontate le nostre storie secondo me e come poi appunto vengono esposte a seconda di quello che è stato scritto ma di come è stato scritto e di come si vuole raccontare una storia. Quello fa la differenza. Troppi film? Si girano troppi film? O troppa offerta? No, non credo che sia troppo offerta troppo firma. È proprio secondo me una questione di sistema alla base di scrittura e di scelta della narrativa. Quindi di qualità alla fin fine? Alla fin fine di evidentemente minor talento ma probabilmente legato a un approccio sbagliato. Ci approcciamo in maniera un po' sbagliata su come dovremmo raccontare secondo me. a un approccio a un approccio a un approccio